Abbiamo voluto sposare l'idea di dare questa anticipazione attraverso la proiezione dei film che sono rivolti alle giovani generazioni per ampliare la platea di coloro che possono sentirsi a casa in questa città. Lo abbiamo fatto qualche settimana fa con il contest di Malloru, lo rifacciamo adesso con Cartoons on the Bay che è un evento di caratura internazionale, ci saranno ospiti internazionali e sarà un assaggio di quello che vivremo prossimamente nella città dell'Aquila recuperando l'iniziativa che era prevista prima della pandemia.